In occasione del primo maggio la città di Teramo si veste di festa e di tradizione con la celebrazione delle virtù. Un piatto che incarna lo spirito della comunità e la ricchezza della cucina teramana. Le virtù sono un simbolo di un rito che si perpetua di generazione in generazione, mantenendo viva una ricetta che affonda le radici nella storia locale. Sicuramente è un piatto che ha fatto la storia della città di Teramo, ha fatto la storia della comunità di Teramo, perché per gli affezionati questo è un piatto che va condiviso con gli amici, con anticamente le famiglie che avevano possibilità, cucinavano per l'intera comunità, proprio perché è un piatto che unisce un piatto della festa, un piatto della primavera. Voglio dire, intorno a questo piatto girano appunto tanti argomenti, ma soprattutto quello della condivisione. La preparazione del virtù è un processo che richiede dedizione e pazienza, poiché ogni ingrediente viene cucinato separatamente per poi essere amalgamato in un insieme armonioso dove nessun sapore prevale sull'altro. Questo piatto, diciamo, qualche anno fa è stato certificato, io, diciamo, sono il fautore appunto di questa certificazione, di questo disciplinare. Questa cosa ha fatto sì che, diciamo, la cosa uscisse fuori regione, tant'è che oggi ospitiamo oltre 200 persone che vengono da fuori. Questo piatto, semplice ma estremamente gustoso, è diventato nel tempo un elemento imprescindibile della festa dei lavoratori, un momento di condivisione e di gioia. È un piatto molto complesso, un piatto che richiede soprattutto, non dando la bravura, quando l'esperienza, perché amalgamare oltre 50 ingredienti non è per nulla facile. Perciò chi ha una nonna, chi ha una zia, chi ha veramente una vecchia cuoca che sa dare consigli, prendetene atto, perché non è un piatto alla portata di tutti. Ma i giovani si stanno avvicinando a questo piatto, cioè vogliono imparare a farlo? Per quanto mi riguarda so che molti giovani si stanno dando da fare, anche perché qualche lezione, diciamo, all'istituto alberghiero l'abbiamo pure dato. Certo è un piatto che richiede passione, perché è un piatto che, perlomeno in un ristorante, richiede 3-4 giorni di lavoro. Ripeto, non è un piatto facile da fare, però con la passione si può fare tutto. Ripeto, non è un piatto.